La Federlazio di Frosinone presenta l'analisi congiunturale delle piccole e medie imprese dei primi sei mesi del 2018. Si riscontra una spinta verso la ripartenza che, sebbene non eclatante nelle proporzioni, sia tuttavia registrata a partire dagli ultimi 3-4 semestri. Ciò sta dunque a significare che il tessuto delle PMI locali, da parte sua non senza sforzo e non senza contraddizioni, sta provando a reagire a un decennio come quello appena trascorso, fatto di numeri sconfortanti. Segno quindi anche di un vitalismo imprenditoriale, che altro non è se non la reazione istintiva di un tessuto imprenditoriale che prova a rimettersi in moto. A far registrare risultati migliori, secondo le indagini, sono però le aziende più aperte all'esterno, un po' più strutturate, più sensibili all'innovazione, che si cominciano ad attrezzare per i nuovi scenari competitivi, a differenza di quelle che seguono modelli tradizionali, che perdono lentamente efficienza e che non riescono a compiere ancora, o forse non sono in grado di compiere affatto, il salto verso una cultura imprenditoriale più moderna. Ciò sarebbe possibile se si creasse discontinuità nella cultura imprenditoriale diffusa sul territorio, coltivando magari maggiormente il pensiero a rete, fondato sulla collaborazione tra soggetti diversi e non sulla conflittualità permanente. Federlasio fa un esempio. C'è oggi tutto un mondo di cosiddetti maker, ovvero giovani con idee innovative che possono essere industrializzate e trasformate in iniziative imprenditoriali nel campo della cultura digitale, dell'economia circolare, dell'intelligenza artificiale e così via. Ecco, queste realtà potrebbero veramente portare aria nuova nelle aziende, se solo esse provassero ad incorporare questi nuovi stimoli produttivi e creare ad esempio forme di partnership con giovani maker, mettendo a disposizione la propria esperienza industriale. Analogo sforzo di aggiornamento culturale, di attenzione agli indici di efficacia, di efficienza e di produttività, che Federlasio chiede all'impresa, lo chiede però anche alle istituzioni, le quali da questo punto di vista hanno anch'esse ancora molta strada da fare. La pubblica amministrazione, ad esempio, secondo l'associazione, deve adoperarsi per una maggiore sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure, proprio per evitare che il sistema economico produttivo resti, per così dire, ostaggio di una tempistica dettutto incompatibile con quella dell'economia. Federlasio, infine, lancia un appello alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, affinché mettano in cima alle loro iniziative l'ammodernamento delle infrastrutture materiali ed immateriali, in particolar modo nelle aree industriali. Dunque le istituzioni devono dedicare il massimo degli sforzi, secondo l'associazione, a rendere l'habitat industriale funzionale ed attrattivo rispetto ad altri territori.